cari amici benvenuti a questo secondo incontro di questa serie cruciale dedicata al problema del cancro voi sapete che questa malattia è una malattia che ormai ci tormenta in maniera molto acuta sono sempre più di più le persone che si amano di cancro ne abbiamo già parlato e ricordo che negli anni 60 presidente degli stati uniti nixon richiam nixon a quel tempo dice dichiariamo guerra al cancro risolviamo questa malattia come è stata risolta la tubercolosi come stato risolto il tifo così via in pochi anni invece così non è stato a dire che moltissimi pazienti di cancro oggi vivono più a lungo alcuni anche guariscono però la malattia comunque sta crescendo è sempre più più frequente e sempre più persone muovono di questa quindi io voglio dedicare proprio una serie voglio dare il mio contributo a questa battaglia che dovremmo certamente vincere dedicando una serie di podcast anche a questo argomento e come spesso succede prendo spunto per questo nostro secondo incontro da un articolo della rivista che mi piace più di tutte che è nixon e sul numero del 10 settembre del 2020 di Nature si parla proprio di un argomento molto interessante del fatto che ci sono delle molecole nel sangue delle persone più vecchie che promuovono la diffusione del cancro abbiamo parlato un'altra volta dell'insorgenza del cancro perché insorge il cancro che sono le situazioni che lo che riducono abbiamo parlato dell'obesità abbiamo parlato del fumo abbiamo parlato di alcuni virus poi ne parleremo ancora oggi parleremo invece di quelle sono le situazioni che determinano non la formazione della cellula neoplastica ma la diffusione delle cellule quindi questo è molto molto interessante perché questa ricerca no fatta dal due personaggi che hanno un nome cinese Wang e Zhang quindi incontrovertibilmente cinesi che che lavorano comunque a Houston e Texas l'università di Houston e Texas hanno fatto questa ricerca molto interessante e hanno visto che nel nel sangue delle persone più anziane si produce una quantità sempre maggiore di acido metilmalonico e questo è interessante perché sapere cosa determina un problema la molecola cosa determina è sempre estremamente importante per poterlo curare questo acido metilmalonico è una sostanza normale del metabolismo è prodotto partendo da dai grassi partendo anche dalle proteine quindi naturalmente qui deriva una cosa interessante non deriva anche il fatto che più noi pre mangiamo proteine e più mangiamo grassi più produciamo questa sostanza che che è una sostanza che aiuta la diffusione dei celluloplasti quindi tra parenti ma la cosa interessante che si è visto che man mano che aumenta l'età che noi facciamo non so dai 30 ai 60 anni aumenta sempre più la concentrazione del sangue di questo acido metilmalonico e questo acido metilmalonico è quello che agendo su un gene andando a pregolare come si dice un gene che è molto importante in realtà per lo sviluppo embrionale ma molti geni dello sviluppo embrionale sono anche geni che determinano la attivazione della proliferazione cellulare poi cancerogene nell'adulto attiva questo gene che è l'SOX4 il quale stimola la diffusione di queste cellule ecco quindi le cellule a un certo punto si attivano diventano si diffondono non sono più limitate quando due cellule del nostro corpo sono contigue una all'altra inibiscono si inibiscono nell'accrescimento invece perdono questa inibizione dell'accrescimento diventano molto più mobili e il cancro non rimane più un cancro localizzato ma diventa il cosiddetto cancro metastatico che è quello che porta molto spesso alla morte del paziente quindi intanto questo è interessante io come sapete sono un grande studioso del ciclo di Krebs che è quella sequela di reazioni enzimatiche che si svolgono all'interno di quel corpuscolo che è la centrale energetica della cellula che è il mitocondrio in questo corpuscolo tutto ciò che noi mangiamo viene ridotto a una molecola che è l'acetil-CoA e si entra in questo circuito in questo ciclo di ossidazioni e attraverso l'ossidazione dei vari substrati di questo acidico che poi deriva dal cibo si viene prodotta energia amminoacide eccetera eccetera la cosa interessante è che questo acido metilmalonico non è una sostanza assolutamente negativa questo è interessante non è come l'omocisteina che anche quella è una sostanza molto molto negativa ma anche questa può essere metabolizzata c'è molta similitudine tra l'aumento nel sangue dell'omocisteina la quale porta alla morte molto spesso cardiovascolare del paziente e l'aumento nel sangue dell'acido metilmalonico che porta alla morte per cancro del paziente quindi due situazioni molto analoghe ma due situazioni curabili perché nel momento che noi vediamo che per esempio nel sangue del paziente c'è aumenta l'omocisteina è semplicissimo si mangiano un po di rape rosse e si somministra banalmente l'acido folico l'omocisteina diminuisce e questa tendenza genetica metabolica ad avere un infarto legato all'aumento dell'omocisteina è scema la stessa cosa possiamo dire dell'acido metilmalonico questo acido nel momento che aumenta nel sangue noi somministriamo della vitamina B12 e questo acido metilmalonico si trasforma in acido succinico il quale acido succinico ben lungo da essere quasi qualcosa di negativo entra poi nel circuito di produzione energetica mitocondriale ed è molto utile anche per produrre una grande quantità di energia sulle creste mitocondriali quindi capite sostanza negativa nel momento in cui venga metabolizzata grazie alla presenza di una vitamina che favorisce questa metabolizzazione diventa una sostanza positiva quindi vi ho già dato un buon spunto bisognerebbe poter quindi dosare e spero che presto si farà non solo nel sangue anzi vorrei certamente mi interesserò perché questo sia fatto non solo dosare l'omocisteina ma dosare anche questo acido metilmalonico nel sangue in modo che come da una parte abbiamo la prevenzione cardiovascolare dall'altra si possa fare con una cosa molto semplica la prevenzione della diffusione del cancro quindi questo è molto interessante e come interessante il concetto che una dieta quindi povera di proteine è una dieta che prevenendo l'aumento di questa sostanza può essere in fondo una dieta anti neoplasica lo sapevamo già lo sapevamo già lo sapevamo già oggi ho sentito un paziente ho sentito un paziente che ho fatto un consulto via scale un paziente tumorale con un grosso tumore del colon ascendente gli ho consigliato la terapia di appoggio alla terapia convenzionale fatta con dei funghi medicinali e tutta una serie di altre cose e poi naturalmente come sempre io faccio do dei consigli dietetici allora la moglie mi diceva cosa mangia chiedo questo signore ma diceva un po' di tutto un po' di carne un po' di questo un po' di quell'altro nel momento che c'è una massa tumorale così grande a livello di intestino dare un po' di carne un po' di tutto eccetera ogni malattia richiede una sua diversa impostazione dietetica questo discorso quindi in questo caso ha ridotto tantissimo naturalmente l'apporto di lipidi addirittura questo acido metilmalonico se noi andiamo a vedere è collegato anche col colesterolo quindi varrebbe la pena di questi pazienti stare attentissimi alla dieta ma eventualmente anche usare delle sostanze naturali per abbassare il colesterolo e naturalmente abbassare l'apporto proteico quindi l'apporto di carne si sa già che la carne è una sostanza sostanzialmente proliferativa e sostanzialmente cancerogena e invece dirottarsi verso i tanto vituperati carboidrati che invece sotto forma di cereali buoni possono essere estremamente utili in questi in questi pazienti questo è particolarmente importante questo si è visto dalle ricerche di questo Wang e Zhang nelle persone che sono dai 50 ai 65 anni è proprio in questo arco di tempo che questa sostanza può creare dei problemi molto molto importanti ed è in questo arco di tempo che la dieta dovrebbe essere riduttiva nel senso dei grassi e delle proteine il discorso cambia poi quando si va da oltre 65 anni perché a quel punto lì viene e si inserisce anche il discorso del caldo della muscolatura della sarcopenia eccetera e da alcune volte le proteine in questi casi sono invece vantaggiose quindi vedete non solo c'è da vedere l'importanza dietetica a seconda del problema che c'è ma poi viene anche bisogna valutare il problema la costituzione dell'individuo l'età dell'individuo eccetera eccetera per sviluppare se posso questa questa analisi anche nei laboratori italiani e non solo in quelli americani e vedete che con un semplice appoggio dietetico e con l'apporto di questa meravigliosa vitamina vitamina B12 vitamina che molto spesso è sottostimata diciamo che i range che si danno adesso che vanno dai 300 ai 800 sono sottostimata dovremmo averla un po più alta un po come la vitamina D vitamina D è benefica in certi pazienti che sia più alta di quello che è il range per esempio nei casi di autoimmunità nei pazienti di una certa età e nei pazienti con un particolare rischio tumorale è importante che la vitamina B12 sia più alta di quello che è il range della normalità o che sia nei valori alti del range della normalità quindi il discorso è estremamente interessante arrivederci al nostro prossimo podcast ciao